Si terrà lunedì 16 luglio alle ore 10.30 presso la Sala Bottiglieri della provincia di Salerno la conferenza stampa di presentazione della sesta edizione di School Movie. All'evento prenderanno parte Claudio Gubitosi, fondatore e direttore artistico di Giffoni Experience, Don Aniello Manganiello, prete Anticamorra, Enza Ruggero, ideatrice e presidente dell'associazione culturale School Movie, i sindaci dei comuni che hanno aderito al progetto, nonché i docenti, i dirigenti scolastici e gli alunni protagonisti della sesta edizione del progetto. La finalissima della Kermess si terrà il 19 luglio nella cornice del Giffoni Experience. Tra gli ospiti il giornalista Michele Cucuzza, presidente di Giuria.